Grazie 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 Di qua Simo Uno di specchio l'hanno messo di fronte al circolo di Pasquale Va bene Grazie Una 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 Un Un Il è Un 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 Grazie. 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 Ecco Cecchi. Ecco Tlatan. E poi Marco Parigi. Ecco Marco Parigi. Trova, trova, trova. Poi Pugiani. Giacomo. E' da mangiare all'interno. Anche l'arrivo di Marco Guerrucci. Bravo Marco. Staccate il cartellino. Ecco Tempesti all'arrivo. E' da mangiare. Cartellino alla mano ragazzi. Ecco, perfetto. Ecco le paniche all'arrivo. Ci siete? Cartellino alla mano. Ecco l'arrivo anche. Staccatevi il cartellino. Anche la veglia. Ecco l'arrivo anche di Gianni. Poi Vivarelli. Staccate l'arrivo. Ecco l'arrivo di Orsi. Vedrà. E' lui. Perfetto. La prima donna. La prima donna assoluta. Carpino del Fiorino. Carpino del Fiorino. Carpino del Fiorino. Carpino del Fiorino. Anche Rossi. Poi Fabio. Ecco ora. Ci sei? Carpino del Fiorino. Anche te. Staccatevi il cartellino. Anche te. Ci puoi in fila. Andate davanti a piccoli passi. Non è anche te. Anche te. Anche l'arrivo. Anche l'arrivo di Tommasi. Ecco l'arrivo di... Bravo Aiello. I primi tre di categoria. Saranno chiamati sui pochi. Arrivo anche di Manetti. Sempre che qui. Tagliamo la pulpa eh. Attenzione Marco. Molto bene. Ecco. Picchi. Vai. Freestyler. Vai arrivo. Vado Riccardo. Poi mei. Roberto. Categoria Argento. Ci siete? Qui. Categoria Argento. Dentro di lui. E sta... Panariello. Non è te. Mi c'è. Non è te. Mi c'è. Non è te. 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 Cantellino in azione. Ritira premio di categoria. Al piano su. Pezzone. Ma. Mi c'è. No. Non è te. Poi Isola. Antoni, è arrivato anche il punto di riferimento, poi lo dà ecco la forma di terra di arrivo, poi lui è assoluto. Capo Bartolini, Agnella, Staccati, Malessi, Staccati lo tiene alla mano, Picone. Sì, perché c'ho troppo oltre luce, Dio, Pone. Scusate qua, non state sul marciapone, questi erano chiamati sul podio, in quanto li ha tutt'anno per portarsi male proprio da lì. Ecco, come ha fatto l'isola che è entrata in premeazione dal porto Storio, dal primo piano, che si tira per questa categoria. Va bene, va bene, passate, non c'è problemi. Grande, Nico. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma chi abbiamo qui? Vai, amico! Un saluto per i media! È una delle sindrome di un miso dijo. Staccatevi il cartellino e lo batte al judicio! Seguadri! ricordatevi